Per tutto il mese di giugno, affermo, ci sarà una importante promozione, cioè quella di poter visitare gratuitamente i musei e le bellezze della città, dalle cisterne romane, il Palazzo Ipriori, la Sala del Mappamondo, l'Adorazione dei Pastori del Rubens e fino anche al Teatro dell'Aquila. Questo sarà possibile con la prenotazione allo 0734 21 71 40 sia la mattina che il pomeriggio, quindi contiamo in una grande presenza così come già in questo primo weekend c'è stato e quindi questo è un bel segno incoraggiante per la nostra città.